A tutti una buonasera e ben ritrovati in questa nuova edizione del telegiornale di Canale 3 Toscana. Apriamo questa sera parlando di turismo e parliamo di agriturismo. Assieme ai provinci ai nostri agriturismo per la Pasqua saranno al completo, l'ha annunciato Daniela Meccaferri, presidente di Agriturist Confagricoltura Toscana. Secondo Meccaferri i dati delle prenotazioni in vista del ponte sarebbero superiori a quelli dello scorso anno. Stime meno positive arrivano dal centro studi turisti regionali che prevede addirittura una flessione di visitatori nelle aree rurali e di collina toscane, 1,2% rispetto allo scorso anno, il servizio curato dal nostro Marco Crimi. Pasqua e Pasquetta saranno all'insegna del tutto esaurito negli agriturismi a Sena e provincia, questo almeno nelle aspettative di Agriturist Confagricoltura regionali. Da quello che si evince anche dalle prenotazioni possiamo ritenerci soddisfatti davvero. Dice Daniela Meccaferri, presidente di Agriturist Toscana che però non azzarda previsioni ed aspetta di conoscere i dati reali per tracciare un bilancio. Un segnale da accogliere però arriva dalle prenotazioni delle strutture e soprattutto se viene fatto un confronto con i già buoni numeri dello scorso anno. Sono levemente più alte quest'anno, sono in credita e abbiamo non dico un full booking perché abbiamo sempre degli spazi, però siamo contenti. Nei calcoli di Confagricoltura la stagione dovrebbe dunque partire con un'affluenza decisamente alta e buone notizie sono in arrivo anche dal mercato estero. Abbiamo un 50% anche di stranieri e la cosa ci conforta molto perché significa che la stagione è partita. Di quattro giorni sarà la permanenza media dei turisti italiani, una settimana di permanenza invece per i turisti stranieri. Sulle previsioni ci va più cauta la regione con il centro studi turistici che stima addirittura a una flessione dei visitatori nelle aree rurali e di collina toscana, meno 1,2% rispetto allo scorso anno. Positivi, secondo i dati racconti a Firenze, i movimenti nei borghi e nelle città d'arte, più 3,3% di presenze rispetto al 2023 ma ancora senza tutto esaurito. La variazione complessiva, spiega l'assessore regionale al turismo e commercio Leonardo Marras, fa ben sperare. Ci aspettiamo. Un saldo positivo dell'1%. La Toscana si conferma come location preferita dagli stranieri che scelgono l'Italia per il fatidico sì. E' qui infatti che nel 2023 è stato registrato il maggior numero di nozze rispetto alle altre regioni d'Italia. 2.600 matrimoni internazionali, il 12,5% in più rispetto al 2022 per un giro di affari cresciuto del 29,5%, sfiorando la quota di 170 milioni di euro. per una spesa media di 65 mila euro, ovvero il 15,3% in più rispetto all'anno 2022. I numeri emergono dall'aggiornamento dell'osservatorio Destination Weddings in Toscani, effettuato dal Centro Studi Turistici per Toscana, promozione turistica, certificato il successo del bando triennale con cui Toscani for Weddings, divisione di Destination Florence Convention and Visitors Bureau, per la promozione dell'offerta wedding della Toscana operato per conto dell'agenzia regionale, il servizio di Aldotani. Nel 2023 i sì in Toscana che hanno visto protagoniste coppie straniere sono stati 2.600, prima regione in assoluto su un totale complessivo in Italia di 13.000 matrimoni. Rispetto al 2022 l'aumento è del 12,5% per un giro di affari di 170 milioni. Chi sceglie la Toscana spende in media 65.000 euro contro i 40.000 degli sposi italiani, numeri che rappresentano un volano turistico, come testimoniato dall'osservatorio Destination Weddings in Toscani, perché le presenze sono cresciute del 14,5%, tra le location preferite ville, agriturismi e residenze storiche. In generale la Toscana è percepita, e lo trovo anche giusto, come una terra del buon vivere, una terra dove sappiamo vivere, dove sappiamo, tra virgolette, insomma, ben festeggiare anche i momenti felici. Quindi veniamo scelti in particolare per questo e anche proprio per, mi viene da dire, riprodurre quello che nell'immaginario collettivo è il tipico matrimonio italiano. Il mercato di riferimento è rappresentato dagli Stati Uniti, ma vanno forte anche il Regno Unito e Germania a muovere anche di migliaia di chilometri futuri sposi le facilitazioni introdotte negli ultimi anni dall'amministrazione comunale, che hanno messo a disposizione nuovi spazi per convolare a nozze e studiato un apposito sistema tariffario. Quello che hanno fatto molte amministrazioni toscane in questi anni è stato proprio rendere più facile la possibilità di organizzare matrimoni all'interno sia delle municipalità, ma anche all'interno delle private o, se andiamo a toccare addirittura la costa, sulla spiaggia. E questo è grazie all'impegno delle amministrazioni che hanno capito che è un business interessante per loro, ma soprattutto per la filiera. Una tendenza che è destinata a proseguire anche nel 2024. Le stime indicano un aumento previsto del 10%, anche se non sarà per sempre, a un sì in Toscana non si rinuncia. Regione Toscana stanzia 90 milioni di euro di risorse per l'emergenza abitativa. Le risorse sono state stanziate attraverso il sì in giunta del piano per la casa. Per due interventi completamente nuove sono stati destinati 40 milioni di euro. Il primo da 29,5 milioni di euro permetterà la realizzazione ex novo di 150 nuovi alloggi. Il secondo da 10 milioni di euro è rivolto invece al patrimonio esistente con il ripristino di 500 appartamenti di edilizia popolare. Attualmente sfitti la misura è stata spiegata oggi proprio dal governatore della regione Eugenio Gianni. Andiamo a sentire dunque le sue parole. 90 milioni mirati rispetto a quello che sarà un intervento diretto di 150 alloggi, ma contemporaneamente la riqualificazione e la rigenerazione di ambienti che sono rimasti sfitti dopo che magari negli edifici ERP delle case popolari se ne sono andati gli inquilini che c'erano, interventi che vanno nel rapporto che per comune attraverso quello che sono Firenze e Casa Spa e in realtà i singoli gestori si possono in sinergia realizzare. Insomma una domanda abitativa che trova un intervento forte da parte della regione e che si concretizzerà nell'arco dei prossimi anni in un rapporto sinergico fra gli enti di gestione, i comuni e naturalmente una regione che ha voluto ritagliare quelle risorse che purtroppo sono venute meno da finanziamenti nazionali che in precedenza c'erano. La libreria senese compie 50 anni, un traguardo importante per uno dei negozi storici della città che ormai da tempo è meta per migliaia di studenti, anche insegnanti e soprattutto amanti della lettura. Andiamo a vedere il servizio. La libreria senese festeggia il mezzo secolo di vita, un traguardo importante per uno dei negozi storici della nostra città da cui sono passati nel tempo migliaia di studenti, insegnanti e amanti della lettura. Era il 1974 quando Marina Pasquinuzzi e Sandro Civai fin da ragazzini, commessi e colleghi della libreria TICCI decidono di mettersi in proprio. Una vera e propria sfida perché come ricorda Roberta Bonci, oggi titolare della senese insieme a Filippo Bonci e Silvia Civai, i soldi erano davvero pochi ma subito le cose partirono bene perché erano anni in cui una scelta del genere la potevi fare. Hanno cominciato piano piano ovviamente con pochi libri e con la forza diciamo delle loro quattro braccia e basta e poi si sono piano piano allargati. È stato preso il fondo, il piccolo fondo accanto e insomma le cose poi sono andate bene, il turismo è cresciuto perché comunque poi gli anni 80 e 90 sono stati anni di forte crescita. Noi ci siamo sempre stati. All'inizio io e la mia socia attuale Silvia Civai che fin da piccolina venivamo qui a dare una mano, fare pacchettini regalo. Poi però siamo entrate prima io a fine anni 80 e poi Silvia dopo la laurea, quindi primi anni 90, siamo entrate a lavorare stabilmente qui. In un secondo momento è entrato anche mio fratello. Nonostante il cambiamento e l'avvento della tecnologia, ancora oggi la libreria senese si conferma un'istituzione e come è raccontato dai titolari, l'amore per la lettura è ancora molto forte ed ha anche molti giovani. Nei giovani, nei giovanissimi dunque si dividono in due gruppi. Quelli che leggono anche autori diciamo tra virgolette scolastici o comunque autori classici, classici moderni e che li cercano, vengono, li scelgono e così. E poi ci sono tutto l'altro gruppo che è il gruppo che si tira dietro TikTok, grazie al cielo, perché questi ragazzini che sono una fascia molto giovane dagli 11 ai 15, praticamente si leggono dei libri e poi se li consigliano. Anche se qualche genere letterario sta perdendo l'interesse da parte del pubblico anche a causa delle nuove tecnologie e dei nuovi dispositivi di informazione, la libreria resta un luogo magico. Ancora oggi infatti riesce ad attrarre grandi e piccini per le sue lunghe file di libri esposti, per i profumi della carta o anche solo per il rumore che sentiamo quando sfogliamo le pagine. Tutti questi piccoli dettagli sono quelli che fanno la differenza e che ancora oggi ci fanno appassionare i libri e dalla lettura. Passiamo adesso alla pagina dello sport. Maurizio Lasi non è più l'allenatore della Virtus Siena. La società ha comunicato l'esonero in mattinata e al suo posto andranno a sedere in panchina gli assistenti di Maurizio Lasi, ovvero Francesco Braccagni ed Edoardo Ceccarelli. Una scelta complicata e dolorosa perché Maurizio ha dato tantissimo, ma nell'ultimo periodo abbiamo visto una squadra scarica. È stato il commento del DS della Virtus Gabriele Voltolini che ha parlato dell'esonero e della situazione della Virtus Siena. Andiamo a sentirlo. Una notizia che ha sconvolto il mondo del basket senese. Maurizio Lasi non è più l'allenatore della Stosa Virtus Siena. La società ha comunicato in mattinata l'esonero, frutto dei risultati altalenanti che la squadra aveva ottenuto nell'ultimo periodo. Nonostante ciò, la firma di Lasi nei successi della squadra in questi due anni è indelebile. Il coach infatti subentrò nella scorsa stagione a Filippo Franceschini, portando la squadra alla promozione in Serie B interregionale e valorizzando molti componenti della squadra. È chiaro che quando esonero in allenatore la scelta è per forza dolorosa, soprattutto in un ambiente come il nostro, in cui i rapporti umani sono prioritari sul resto. Abbiamo reputato che in questo momento la squadra non stesse rendendo per quanto ci aspettavamo. Sabato a Saronno un approccio completamente sbagliato, siamo andati sotto subito, sotto di venti, come avevamo fatto anche con Casale, e invece ci aspettavamo un po' una reazione. Abbiamo valutato che in queste ultime quattro partite servisse una scossa. A sostituire Lasi per queste ultime quattro partite della seconda fase del campionato saranno i suoi assistenti Francesco Braccagni ed Edoardo Ceccarelli. Non pensiamo al prossimo anno, ma pensiamo nel breve periodo. Sarà una gestione condivisa. Noi abbiamo molta fiducia in Francesco ed Edoardo, sono alla Virtus da sempre, conoscono l'ambiente, conoscono le dinamiche interne, conoscono la squadra, per cui siamo convinti che sapranno o comunque cercheranno di dare il massimo e daranno sicuramente il massimo per cercare di raggiungere l'obiettivo. Sono due allenatori sicuramente molto validi, quindi siamo convinti della scelta fatta e andremo con loro fino alla fine dell'anno. Maurizio Lasi comunque resterà all'interno della società senese in qualità di responsabile del settore giovanile. Rimarrà responsabile tecnico di tutta l'area tecnica del settore giovanile, condivideva il ruolo con il capo allenatore della prima squadra, quindi adesso avrà la responsabilità del settore giovanile che per noi sappiamo che essere un settore veramente importante, fondamentale e chiave per quanto riguarda la nostra società. Rimaniamo in tema sport, una sconfitta amara contro Santa Croce che però sicuramente non macchia la stagione di Emma Villas Volley che come confermato dal vicepresidente Fabio Mechini si prepara ai playoff con grandi ambizioni. Andiamo a sentire le sue parole e anche il complesso weekend sportivo di questa settimana. Una sconfitta nel derby contro Santa Croce che ha lasciato un po' di amare in bucca, ma nel complesso la regular season dell'Emma Villas Volley è più che positiva. Tra le difficoltà iniziali con il palazzetto e le avversarie competitive, la squadra di coach Graziosi è riuscita a chiudere al terzo posto in classifica, guadagnando così playoff. Gli incontri si prospetteranno molto equilibrati di stili scontri diretti che le sei squadre qualificate hanno affrontato durante l'anno. Ricordiamo come siamo partiti, appunto la Santa Croce con tutte le difficoltà iniziali e come abbiamo finito. Per cui è vero che abbiamo perso i due punti ieri che ci hanno fatto scendere al secondo e al terzo posto, ma non possiamo nemmeno dimenticare tutto quello che di buono abbiamo fatto nelle 25 gare precedenti. Le squadre molto equilibrate lo dimostrano tutti i tre break che abbiamo fatto. Di queste sei partite, in queste sei squadre che siamo a playoff, nelle partite a guadagnare ci sono stati cinque tre break su sei, per cui è molto equilibrato e forse il fatto che non sia Porto Vero come tutti ci aspettavamo e sia Brescia ci mette ancora di più in allerta e bene così. Il primo avversario da battere per i senesi per questa seconda parte di stagione sarà Brescia, che i senesi affronteranno mercoledì alle 20.30 al Palaestra. Soprattutto al migliore dei tre ci abbiamo tutti, sia le quarti che le semifinali che le finali, per cui sarà un playoff molto intenso, molto rapido e molto chiaramente importante per come verrà approcciata ogni singola partita. Brescia è una squadra che tutti sembrava volessero evitare, è una squadra molto esperta, molto quadrata, molto fisica. Con noi sono stati due tre break, uno vinto e l'ho perso sempre contro il fatto del campo e a questo punto ci alleneremo poco perché chiaramente siamo già arrivati, ma ci concentreremo al massimo per affrontarli nei migliori modi. Nel complesso il weekend sportivo ha visto la sconfitta della Stosa Virtus Siena contro la Roburza Ronno, lo stesso esito per la Menzana, che in casa ha perso i due punti contro San Vincenzo, mentre è uscita con il sorriso la Vismederi Costone, che ha vinto contro San Cat ed ha portato a casa il biglietto per i playoff di Serie B. E chiudiamo questo telegiornale del lunedì che apre alla Settimana Santa con un video nel quale il Cardinale Augusto Paolo Loiudice, Arcivescovo di Siena, Colle Valdelsa Montalcina e Vescovo di Montepulciano, chiusi Pienza, formula gli auguri in occasione della Santa Pasqua. Andiamo a sentire le sue parole. Non possiamo, e certamente sarebbe ingiusto non farlo, non ricordarci l'impegno per la pace che ciascuno di noi deve sentire innanzitutto, lo deve sentire vivo dentro di sé. Quello che dico spesso è che la tentazione che può assalirci è quella di pensarci impotenti, tanto che ci possiamo fare noi con queste grandi questioni che affliggono le nazioni. Invece non è così. Io credo che ciascuno di noi possa fare qualcosa, non tanto per risolvere un conflitto veramente internazionale, ma per partire dalle piccole cose, per sciogliere quei nodi che sono presenti nella vita di ciascuno di noi, nella vostra vita individuale, nella vita sociale, familiare e anche per arrivare veramente dove non immagineremmo ma possiamo arrivare anche a dare una mano alla pace, quella grande, quella del mondo. E con questa si chiude il nostro appuntamento con il telegiornale di Canale 3 Toscana. Io vi ricordo di rimanere sempre collegati con noi sulla nostra web tv o sui nostri profili social per gli ulteriori aggiornamenti, mentre il telegiornale tornerà come sempre domani alle ore 19. Auguro a tutti un buon proseguimento di serata.